salutiamo ormai e bentornati sul canale sono ben oggi ti mostro diverse soluzioni su come risolvere l'errore 0x8008005 sull'app xbox pc quando questo errore si verifica l'app di xbox non riesce a trovare la cartella di installazione dei giochi e quindi non è possibile installarli e non è possibile eseguire quelli già installati e qualcune soluzioni 1 aggiorna windows nella riga di testo accanto al tasto windows digita update e clicca su verifica disponibilità update se ci sono aggiornamenti da fare lascia che vengano scaricati e installati riavvia il pc e verifica se il problema è stato risolto 2 esegui lo strumento di risoluzione di rete clicca sul tasto windows in basso a sinistra quindi clicca sull'ingrenaggio e poi su rete e internet in basso clicca su risoluzione dei problemi di rete attendi il completamento e se vengono trovati i problemi lo strumento dovrebbe risolverli automaticamente 3 ripristina lo stato della connessione internet nella riga di testo accanto al tasto windows digita cmd fai clic destro sul prompt dei comandi e clicca esegui come amministratore nella finestra del prompt digita questi comandi uno per volta ipconfig slash release senza spazio e premi invio ipconfig slash renew senza spazio e premi invio net sh spazio winsock spazio reset e premi invio quindi riavvia il pc 4 esegui la pulitura del disco nella riga di testo accanto al tasto windows digita pulizia disco e sul primo risultato clicca su esegui come amministratore metti la spunta su tutte le caselle e premi ok quindi clicca su eliminazione file 5 utilizza lo strumento di risoluzione dei problemi di xbox clicca sul tasto windows quindi sull'ingrenaggio clicca su giochi funzionalità di rete xbox e anche se non vengono trovati problemi clicca su correggi riavvia il pc e verifica se il problema è stato risolto 6 reimposta le app xbox game service o xbox live e microsoft store clicca sul tasto windows impostazioni app nella riga di testo digita xbox clicca sull'icona xbox opzioni avanzate scorre in basso e clicca su reimposta esegui la stessa operazione anche per game service o xbox live e microsoft store se il problema non viene risolto prova a cliccare anche su ripristina riavvia il pc e verifica se il problema è stato risolto 7 reinstalla l'app xbox e game service o xbox live clicca sul tasto windows impostazioni app cerca l'app xbox fai clic sull'icona dell'app e poi su disinstalla ripeti il processo anche per game service o xbox live e riavvia il pc se le app non vengono reinstallate automaticamente apri il microsoft store e reinstalla le nuovamente 8 reinstalla windows usando i link che trovi in descrizione scarica la iso per windows 10 o 11 non è una iso pirata ma quella originale dal sito microsoft quindi funziona solo se la tua copia di windows è originale e registrata scarica media creation tool punto ex e avvia lo strumento al termine del download segui la procedura guidata caricando la iso del sistema operativo e scegli di eseguire l'installazione di windows mantenendo dati e file in questo modo solo il sistema operativo verrà eliminato e reinstallato in modo pulito ripristinando tutte le funzioni danneggiate la procedura richiede molto tempo quindi armati di pazienza e sappi che questa è la soluzione che per me ha risolto il problema fammi sapere tra i commenti se è risolto e qual è stata la soluzione che ha funzionato il canale è pieno di guide come questa e ne arriveranno sempre di nuove quindi assicurati di non perderne nemmeno una iscrivendoti al canale e attivando tutte le notifiche grazie per la visione completa like iscriviti continua a seguire e supporta il canale utilizzando il tasto super grazie da benne tutto ci vediamo alla prossima statemi bene marmaglia grazie a tutti Grazie a tutti